Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Forti raffiche di vento in tutta la regione temperature autunnali che hanno toccato i 20 gradi un tempo davvero pazzo che nel fine settimana cambierà ancora portando gelo dalla Siberia e forse anche la neve Sulla sanità i comitati non mollano e scendono in piazza ad Ancona per contestare la politica sanitaria del presidente Ceriscioli Con l'auto finisce in bilico nella rotatoria dell'Interquartieri paura per un'automobilista che finisce all'ospedale Una donna chiama il 112 e annuncia un pacco bomba in un ufficio postale di Fossombrone Terza vittoria di fila per l'Alma Juventus Fano che batte al Mancini l'Olimpia Agnonese Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia ben ritrovati e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Subito il maltempo in apertura con le forti raffiche di vento che hanno provocato disagi e criticità in tutta la provincia di Pesaro Urbino I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la giornata nelle zone dell'entroterra in particolare a Caglio Urbino e Macerata Feltria I pompieri sono intervenuti per rimuovere rami e alberi abbattuti dal vento cartelli pubblicitari pali della luce cadute in strada o pericolanti Diverse segnalazioni sono arrivate alla centrale anche per capannoni scoperchiati tegole cadute dai tetti e incendi di cane fumarie un'antenna invece si è staccata da una palazzina ferroviaria finendo lungo i binari all'altezza del Lido di Fano la circolazione dei treni è stata bloccata per circa 45 minuti in attesa della rimozione del materiale sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polfer di Pesaro e gli agenti del commissariato di Fano e se oggi il termometro ha toccato addirittura i 20 gradi centigradi grazie ai venti miti facendoci assaporare anche un tempo da inizio autunno da venerdì lo scenario cambierà e soprattutto cambierà perché è previsto l'arrivo del freddo freddo intenso e così Francesco Cangiotti buonasera sì buonasera direttore sì come ha annunciato lei la giornata di oggi è stata caratterizzata da queste forti grafiche di vento che addirittura in una delle stazioni medio della provincia alle pendici del Monte Nerone località Saravalle di Carda hanno raggiunto anche 165 km orari quindi un valore decisamente elevato nelle prossime ore ci attendono ancora dei venti moderati o forti sulle zone interne ma saranno in via d'attenuazione e precederanno appunto questo cambio netto di circolazione che si verificherà poi nel corso del fine settimana quando delle corretti di aria artica giungeranno sulla penisola balcanica interessando poi anche la nostra penisola e quindi anche la regione Marche dove appunto ci attendiamo un brusco calo delle temperature anche di 10-12 gradi rispetto ai valori attuali quindi si tornerà in pieno inverno e queste correnti fredde saranno accompagnate appunto oltre al calo termico da venti tesi dai quadranti nord orientali e anche dal ritorno della neve sulla dorsale appenninica ma anche a quote relativamente basse proprio nella giornata tra sabato e domenica Bene, grazie a Francesco Cangiotti per questo aggiornamento meteo allarme bomba questa mattina a Fossombrone una donna intorno alle 8.45 ha chiamato il 112 dicendo queste testuali parole se volete salvare l'ufficio postale di Fossombrone fate qualcosa entro le ore 12 subito attivati i carabinieri con le unità cinofile sono stati eseguiti dai controlli ma non è stato trovato nulla il locale è stato fatto evacuare simulando un guasto tecnico sono scesi in piazza oggi pomeriggio i comitati che difendono i punti nascita destinati alla chiusura e agli ospedali in cui non ci sarà più il servizio di pronto intervento notturno questo pomeriggio in concomitanza con la riunione della commissione regionale salute e l'incontro con i sindaci di settore i cittadini di Fabriano Cagli, Fossombrone, Matelica Sasso Corvaro, Genga Serra Sanquirico, Osimo e San Severino Mar che hanno manifestato davanti alla sede del consiglio regionale in piazza Cavura d'Ancona per la salvaguardia della sanità e degli ospedali e torniamo adesso a parlare invece della vicenda dei trasporti sanitari dopo mesi senza stipendi oggi gli autisti della Croce Verde di Fano si sono rivolti alla redazione di Fano TV per lanciare un nuovo appello chi ha delle responsabilità chi può fare qualcosa scendessi in campo e dicesse le cose come stanno perché noi così non riusciamo più a andare avanti non si arrendono i dipendenti delle crocefanesi a poco infatti sono serviti i presidi e gli scioperi proclamati dai servizi di trasporto sanitario insieme ai sindacati per sensibilizzare cittadini e autorità sulla vicenda aperta dalla trasmissione televisiva il cui inviato Giulio Golia nel settembre scorso aveva fatto visita alla sede di via caduti del lavoro documentando presunte irregolarità nella gestione da allora gli autisti hanno lavorato in condizioni sempre peggiori e misse ormai in ginocchio hanno intrapreso delle azioni per esternare il malcontento causato dagli stipendi arretrati ma esasperati dopo decenni di servizio alcuni dipendenti hanno gettato la spugna inviando le lettere di dimissioni altri invece devono ancora percepire sei mensilità comprese tredicesima e quattordicesima una situazione diventata insostenibile ovviamente le difficoltà sono notevoli dall'addirittura mettere la benzina nella macchina per venire a lavorare lasciamo mutui bollette e quant'altro abbiamo fatto le feste di Natale senza neppure un euro e noi a questo punto siamo esasperati perché la situazione si portare da troppo tempo nessuno ci dà spiegazioni sul caso e quindi noi stiamo valutando l'ipotesi e l'ipotesi la necessità a questo punto ci obbligano al licenziamento in toto per attingere alla disoccupazione speciale pur di avere un reddito perché andando avanti così la situazione ovviamente non non ha vita lunga in sostanza chiedono garanzie agli addetti delle ambulanze che ci raccontano dei continui rimpalli di responsabilità le risposte dicono forse arriveranno quando ormai sarà troppo tardi se dovessero davvero decidere di licenziarsi tutti il servizio non verrà più garantito e a quel punto si creerebbe un enorme disagio per l'intera collettività intanto l'Asura ha accettato di sostituirsi al privato nei pagamenti degli stipendi arretrati questo già è un bene però i pagamenti ancora non sono arrivati al contrario di quello che già si era potuto inizialmente già col dottor Bernardi e col dottor Orfeo Mazza che era l'80 e il 90% invece una telefonata di 3-4 giorni fa è una lettera fatta dal dottor Mazza dice che ci pagheranno il 50% di quei pochi soldi che purtroppo fatturiamo noi direttamente all'Asura fra l'altro adesso state lavorando praticamente H24 lavoriamo il doppio del lavoro di prima e veniamo pagati la metà da metà questo accade perché dal 30 novembre Solaris ha lasciato il suo incarico infatti è la cooperativa di Carpi che aveva rilevato il 7 aprile scorso il servizio svolto da Croce Azzurra ha reso noto tramite legali che non avrebbe più svolto l'attività e avrebbe chiuso i battenti nella città di Fano il servizio ora viene coperto dalla Croce Verde che cosa vi dà la forza di continuare ancora? che siamo da anche 40 anni qui a Fano e che stiamo lavorando con serietà e stiamo facendo quello che bisogna fare però adesso non gliela facciamo più entro il 2016 la Camera di Commercio di Pesaro Urbino verrà unificata a quella di Ancona per il futuro ente Marche Nord il presidente Drudi e il vice Varotti rivendicano la sede e un presidente pesarese sarà un anno complesso quello che attende la Camera di Commercio di Pesaro Urbino che dopo i tagli dovrà subire una riorganizzazione drastica nelle Marche ci dovrà essere un'azienda unica speciale delle 5 attuali e solo due Camere di Commercio Marche Nord e Marche Sud Pesaro quindi è pronta a fondersi con Ancona in un processo che dovrà avvenire entro la fine dell'anno il procedimento poi comprende la creazione di un consiglio di 30 componenti che dovrà eleggere il presidente a rivendicarne sia la sede che i vertici sono Alberto Drudi e il suo vice Amerigo Varotti che elencano i progetti per il nuovo anno e i risultati già ottenuti come quello dell'export siamo la provincia che cresce di più dicono che la provincia di Pesaro Urbino ha avuto un aumento dell'export di oltre il 10% mentre le altre province marchigiane sono in calo e anche un dato molto più alto del dato nazionale una crescita ha proseguito che anche il frutto del lavoro dei nostri imprenditori e dell'opportunità che la Camera di Commercio e Aspin hanno costruito nel tempo si parla di 60 collaborazioni con enti camerali e paesi del mondo per il rilancio invece un ruolo importante lo possono svolgere gli aeroporti ma ad oggi ne manca uno di riferimento su quello di Fano dove potrebbero nascere decine di attività e posti di lavoro ribadiscono la loro linea purtroppo è una vicenda triste lunghissima c'è un contenzioso di fatto la famosa richiesta di una via di una valutazione di impatto ambientale per l'asfaltatura della pista che l'Enac richiede la regione dice che non è necessaria però nessuno si muove da questo impasse è ovvio che se dovesse perdurare questa situazione e non si facessero passi in avanti nella definizione di una pista decorosa per lo sviluppo dell'aeroporto di Fano la Camera di Commercio ha già detto che uscirà dalla società sul turismo invece Varotti è critico nei confronti della regione il governo ha tagliato le risorse ma per il vice presidente quelle stanziate per il piano annuale sono insufficienti poco più di 900 mila euro dai fondi di bilancio per il turismo sono una sciocchezza voglio dire per un settore che invece tutti ritengono che sia trainante per l'economia del nostro paese per questo motivo Varotti propone un incontro con l'assessore regionale Pieroni i sindaci di Fano Pesaro Gabiccemare e Urbino come si dice fare sistema fare squadra per ottimizzare le risorse consapevoli che bisogna fare molte iniziative promozionali chi dice che non è più necessaria la promozione dice delle sciocchezze e adesso guardate queste immagini andiamo nella rotatoria dell'interquartieri tra via Pertini e via 4 novembre oggi poco dopo le 16 c'è stato un incidente probabilmente autonomo un'auto è finita sopra uno spartitraffico ed è rimasta in bilico alla guida c'era una donna fanese di 40 anni che è stata trasportata al pronto soccorso cittadino le sue condizioni non sono gravi sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale tra l'altro questa è una strada una rotatoria dove spesso accadono incidenti simili a questo e uno più o meno identico c'è stato qualche giorno fa sabato lo vedete qui siamo in via Roma a poche centinaia di metri dal luogo dove c'è stato l'incidente oggi pomeriggio guardate quest'auto è finita si è adagiata su un fianco ed è finita dentro la fontana una donna di 32 anni di Fano è stata portata al pronto soccorso del Santa Croce a causa di una ferita da taglio ad una mano che si era procurata aprendo una bibita in lattina la ragazza che soffre di problemi psichici è stata notata sanguinante da alcuni dipendenti di un supermercato del centro storico che hanno avvisato il 113 gli agenti del commissariato di Fano si sono messi subito alla ricerca della donna che nel frattempo si era diretta verso la stazione dei treni i poliziotti l'hanno trovata nei locali della toaletta dove era andata per ripulirsi la segnalazione è poi passata alla polizia locale cambiamo argomento il più amato delle marche è il terzo in assoluto in Italia dopo i primi cittadini di Lecce e Venezia è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci del PD vicepresidente nazionale del partito e del Lanci commenta con soddisfazione la classifica di IPR pubblicata da sole 24 ore ma invita a prendere i dati con le pizze il 60% dei consensi conferma il voto elettorale ed evidentemente Pesaro ha colto il nostro sforzo di progettualità la voglia di far contare di più la città anche in ambito nazionale ma osserva Ricci siamo solo all'inizio dunque piedi per terra e avanti tutta ha fatto il giro del mondo l'albero artistico di piazza 20 settembre che secondo una stima della Proloco di Fano sarebbe stato fotografato 7400 volte l'albero più discusso di Fano alla fine l'ha spuntata è lui il protagonista principale di questo Natale Più messo in campo dall'amministrazione comunale discusso fotografato illuminato al centro di tutte le attività ha fatto da catalizzatore per Fano attirando da ogni parte d'Italia genti per vederlo e fotografarsi con lui e vivere le tante iniziative programmate in questi ultimi 40 giorni dalla Proloco di Fano non è arrivato per caso questo lavoro è due anni che lavoriamo sicuramente bene con un gruppo di lavoro che coprende associazioni di categoria già dall'anno scorso abbiamo creato una base importante su cui costruire ed è questa la metodologia che vorremmo utilizzare quest'anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e questa la consideriamo una base su cui poter costruire anche l'anno prossimo sicuramente riusciremo a fare anche del periodo natalizio della città di Fano grazie alle collaborazioni della città grazie alle collaborazioni con le Proloco del territorio ne faremo un periodo importante le sue immagini hanno fatto il giro del mondo grazie anche al passaggio in trasmissioni e testate nazionali e dai 3.000 modelli in varie dimensioni venduti per le feste è una buona pubblicità per la nostra città mi fa molto piacere perché è stato un evento molto sofferto all'inizio però ha dato degli ottimi risultati sia per quanto riguarda gli operatori economici quindi i commercianti tutte le attività produttive artigianali che hanno collaborato e lavorato intorno e anche per i cittadini che hanno vissuto dei giorni degli eventi natalizi chi non è potuto andare fuori città trascorrere delle serate tranquille e belle nella nostra bella città di Fano il frutto di questo lavoro è il risultato di una concertazione a più mani tra amministrazione comunale proloco associazioni di categoria e il coinvolgimento di diversi soggetti come la fondazione teatro il presepe di San Marco e le scuole comunali è stato un Natale più un Natale dei record perché tutti gli eventi hanno visto una partecipazione straordinaria di gente e soprattutto Fano è tornata ad essere un punto di riferimento io ho incontrato tantissime persone che venivano da varie parti da città d'Italia proprio per la curiosità di vedere l'albero e poi quando uno viene a fare una visita alla città se ne innamora perché abbiamo veramente un centro storico molto bello ricco di storia e anche attraente numeri da record quelli finali con 800 ingressi a musei e pinacoteca 10.000 visite al presepe meccanizzato di San Marco 850 visite guidate per la città e 1650 a San Pietro in valle il gioiellino la bomboniera di Fano alberghi tutto esaurito per l'ultimo dell'anno insomma il Natale più è stato uno dei più vissuti degli ultimi tempi e dal Natale al Carnevale il passo è breve questa mattina hanno già iniziato a montare e allestire i palchi per le prossime sfilate operai al lavoro questa mattina per allestire le tribune e i palchi del Carnevale di Fano che faranno da cornice alle sfilate mascherate in programma il 24 e 31 gennaio e il 7 febbraio prossimi sui palchi potranno salire fino ad un massimo di 15 persone e per chi deciderà di acquistare il biglietto in prevendita dall'11 al 17 gennaio il prezzo sarà di 150 euro per la prima sfilata per la seconda e terza domenica invece costerà 180 euro il prezzo della poltroncina in tribuna sarà di 10 euro a persona mentre chi deciderà di acquistare i biglietti dal lunedì 18 gennaio il prezzo per tutte e tre le domeniche sarà di 195 euro chi accede ai palchi potrà partecipare all'ormai storico concorso per la miglior mascherata che come sempre prevede ricchi premi per i primi tre classificati tra cui viaggi ingressi ai parchi e buoni spesa da 150 euro in caso di maltempo bisognerà riportare i biglietti nella sede dell'ente carnivalesca in piazza Andrea Costa Fano entro il martedì successivo per convertirlo in altra data può avere il rimborso dell'importo intanto il direttivo ha annunciato con un video su facebook l'ultima novità della manifestazione sulla vendita di ogni prendigetto che costerà 5 euro 2 euro andranno in beneficenza uno verrà destinato alle associazioni che lo venderanno mentre l'altro sarà donato alla famiglia Mezzina per sostenere le cure all'essero del piccolo Federico e considerati quelli venduti solo nel 2015 ben 8 mila l'aiuto potrebbe essere davvero importante per la salute del bimbo fanese qui con noi oggi Vito Mezzina che si associa all'ente carnivalesca ed ora una news in esclusiva da parte del nostro presidente questo è per te Vito grazie allora amici di facebook che ci state appunto guardando proprio per essere anche noi con Federico perché Federico ormai è il bambino della nostra città vi ricordo che assieme a tutte le associazioni con il prendigetto del carnevale acquistando il prendigetto del carnevale un euro lo raccoglieremo appunto per il nostro Federico mi raccomando superiamo la cifra dell'anno scorso ultimi due giorni per vedere gli sbancati due nei cinema di Fano questa sera lunedì alle 21.15 domani martedì alle 18.30 il film in dialetto fanese è in programmazione al malatesta terminate queste due proiezioni la pellicola del regista Henry Secchiaroli inizierà il suo tour in provincia che partirà da Pesero prima di approdare a Urbagna a Qualagna e Urbino i biglietti si possono acquistare al botteghino del Cinema Politeano e adesso passiamo al calcio il calcio di Serie D perché domenica l'Alma Juventus Fano ha battuto al Mancini l'Olimpia agnonese per 1-0 e come di consueto adesso diamo lo sguardo ai risultati le classifiche e alle pagelle di Catalani vediamo insieme la grafica Alma Juventus Fano agnonese 1-0 Avezzano San Benedettese 1-2 Campovasso Amiternina 2-0 Castelfidardo Re Canatese 1-1 Chieti San Nicolò 0-0 Fermana Iesina 4-1 Matelica Giulianova 4-0 Monticelli Folgore Veregra 2-1 Vispesero Isernia 3-0 il prossimo turno prevede l'Alma Juventus Fano impegnata contro la squadra Folgore la classifica in testa sempre da San Benedettese con 45 punti seguita da Matelica 39 Alma Juventus Fano 37 Fanellini di coda Lamiternina con 14 punti Adesso le pagelle come dicevamo le pagelle di Sergio Catalani Marco Antonini 6,5 De Iori 6 Bartolini 6 Lunardini 6 Verruschi 6,5 Torta 7 Sivilla e Marconi 6 Gucce Borrelli 7 Ambrosini 6,5 Senza valutazione invece Lucciarini mentre punteggio pieno 7 per sufficienza piena dicevo per Marianeschi e 4 invece per Sartori un 6 per l'allenatore mister Alessandri e con questo chiudiamo qui la nostra questa edizione il nostro telegiornale grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Fano TV Grazie a tutti